canna da 520 mm, regolatore di pressione UMA, caricatore 16 colpi, calibro 4,5, impugnatura match, calciatura PRS, copricanna in alluminio, calciatura lunga benchrest con arca rail incorporato ma soprattutto una vera polivalente perché quest'arma dotata di specifica ottica vi permette di fare benchrest alle due distanze consone, fill target, pest control e un semplice plinking. Con i tipi di pallini oggi in commercio possiamo giocare dai 40 ai 50 fino ai 60 metri ottenendo risultati assolutamente perfetti con una carabina che si presta a fare tutto. Questa è la vera multipurpose rifle. Questa è una carabina che riesce a fare tutto, a soddisfare tutte le esigenze.